Buonasera e ben trovati in questa seconda edizione del TG6. In apertura parliamo della vicenda Ryanair che per il momento si è conclusa positivamente. Infatti Ryanair ha confermato di restare nell'aeroporto d'Abruzzo. La decisione è stata ufficializzata dai vertici della compagnia Low Cost questa mattina a Roma nel corso della riunione eseguita all'approvazione definitiva del decreto legge antilocali che ha cancellato per il 2016 l'aumento delle tasse aeroportuali. Ryanair resta nell'aeroporto d'Abruzzo. La notizia era nell'aria soprattutto dopo l'approvazione dell'emendamento al decreto antilocali che ha cancellato per l'anno in corso l'aumento delle tasse aeroportuali. Ma questa mattina è arrivata l'ufficialità al termine della riunione tra i vertici della compagnia Low Cost irlandese, O'Liri e O'Brien, il ministro per le infrastrutture e i trasporti del Rio, i presidenti delle regioni Abruzzo e Sardegna D'Alfonso e Pigliaru e il presidente della conferenza Stato-Regioni Bonaccini. Dunque con l'approvazione definitiva del decreto ieri da parte del Senato è stata disinnescata una bomba potenzialmente letale per l'economia e il turismo abruzzese in grado di far abbassare le serrande allo scala aeroportuale di Pescara gestito dalla saga. Infatti Ryanair ad ottobre, subito dopo la decisione del governo di aumentare di due euro e mezzo l'addizionale comunale come sussidio ad Alitalia, aveva annunciato di voler abbandonare le basi negli aeroporti minori Pescara e Dalghiero. Dall'aeroporto d'Abruzzo attualmente il vettore irlandese garantisce i collegamenti verso importanti destinazioni europee come Londra, Parigi, Francoforte, Barcellona, Dusseldorf e Bruxelles e verso il nord Italia con Milano. Il lavoro fatto in 100 giorni ha portato risultati non solo per l'Abruzzo ma anche per le altre regioni. Ryanair ha riconosciuto il nostro lavoro e la connettività aerea è confermata. Queste le prime parole del presidente D'Alfonso al termine della riunione che ha lasciato in sospeso però la sopravvivenza della base di Alghero in Sardegna. D'Alfonso ha proseguito spiegando che una parte della copertura finanziaria arriverà dalla regione dopo il passaggio in giunta di domani e poi in seguito ci sarà un bando per la collocazione turistica dell'Abruzzo che punta a far superare alla regione le 700.000 presenze annuali e in futuro anche il milione. L'amministratore delegato di Ryanair, Michael O'Leary, ha ringraziato il presidente del Consiglio Matteo Renzi e il ministro del Rio che si è impegnato a rivedere le linee guida. Ha riferito il top manager che poi ha chiusato spero che potremo mettere in campo delle belle sorprese e presentare un piano di crescita di Ryanair in Italia. E sulla vicenda Ryanair e su questo esito ci sono le reazioni in particolare dei consiglieri regionali Mauro Febbo e Lorenzo Sospiri. Un'assurda vicenda creata da Renzi che oggi trova un epilogo e speriamo, dicono, non sia solo fino al 31 dicembre 2016 per cui noi per primi gioiamo e lo facciamo a pieno titolo. Preoccupa invece l'appello del presidente D'Alfonso rivolto ai parlamentari abruzzesi affinché lavorino perché l'aumento delle tasse aeroportuali venga scongiurato anche per il 2017 e il 2018. Quindi tutto risolto ma fino a quando la tassazione è stata infatti abolita fino al 31 dicembre e poi cosa succederà? E poi ancora proseguono Febbo e Sospiri. Ci auguriamo a questo punto che il balzello voluto dal ministro Padoan venga cancellato completamente e la mancata copertura non venga sopperita con altri interventi sulle spalle dei cittadini. E ora torniamo a occuparci del progetto della variante Toto con l'intervento oggi del forum dei movimenti per l'acqua. Il forum prosegue la sua battaglia e annuncia anche di aver preparato un dossier da presentare al ministro Del Rio. Un dossier dettagliato pronto per il ministro all'infrastruttura Graziano Del Rio che dimostra pagina per pagina tutte le contestazioni apposte al progetto della variante Toto quello che prevede il perforamento di beni ambientali di primaria importanza e a presentarlo è il neonato comitato istituito dal forum abruzzese per l'acqua. Folle a nostro avviso pensare di forare per 50 chilometri 5 volte il traforo del Gran Sasso le nostre belle montagne i Simbruini, il Sirente addirittura sfondare le gole di San Venanzio, le gole del Sagittario fare bretelle autostradali anche nei fondovalle Val Vomano e nel fondovalle di Pescara dove la qualità della vita è precaria per l'inquinamento atmosferico, consumo di suolo insomma un progetto faraonico del costo di 13 mila miliardi delle vecchie lire 6,5 miliardi di euro riteniamo che la regione Abruzzo abbia sbagliato a dare un parere favorevole di massima lo debba ritirare e abbiamo mandato una diffida anche al ministero nasce un coordinamento di associazioni, comitati, movimenti politici, singoli cittadini coordinamento nototo salviamo l'Abruzzo noi pensiamo che la vera grande opera sia il risanamento del territorio la depurazione, mettere a posto le scuole le strade esistenti che fanno schifo in larga parte d'Abruzzo a questo bisogna puntare e non fare nuovi scempi hanno spiegato la regione Lazio in particolare che si risparmerebbe qualcosa perché attualmente secondo la regione Lazio si va a 90 km all'ora su questa autostrada se uno utilizza questi dati è chiaro che vengono fuori risparmi di tempo esorbitanti siccome si va a 120, secondo le regole di 130 anche il risparmio sarebbe i 5-10 minuti assolutamente non vale la candela il gioco perché distruggerebbe il nostro patrimonio ambientale e quello che ci dà la vita, l'acqua la cronaca, un uomo è morto la scorsa notte a Ortona nell'impatto tra la sua motocicletta e un tir l'incidente si è verificato in via Civiltà del Lavoro poco dopo la mezzanotte la vittima è Massimo Macrini 25 anni operaio il suo mezzo sarebbe finito sotto il semirimorchio del mezzo pesante che secondo una prima ricostruzione degli investigatori si stava immettendo sulla strada dal piazzale di una ditta la morte di Macrini è avvenuta sul colpo dopo oltre 50 giorni vissuti in carcere senza cure Fabrizio Pellegrini malato di fibromialgia è tornato a casa arrestato con l'accusa di aver coltivato cannabis per uso terapeutico ieri mattina grazie all'intervento dell'avvocato Vincenzo Dinanna e di Rita Bernardini Pellegrini è finito ai domiciliari Avvocato questo è un provvedimento che salva la vita Pellegrini adesso Pellegrini è a casa e nel carcere ricordiamo come stava Sette persone in una cella senza cure mediche adeguate non per mancanza di volontà da parte dei sanitari si badi ma per inadeguatezza assoluta completa della struttura carcenaria pesa poco più di 40 kg sembra uscito da un campo di concentramento al momento della scarcerazione Ricordiamo il problema di Pellegrini Fibromialgia che è una patologia grave e invalidante che procura dolori e sofferenze a volte insostenibili o meglio sostenibili con l'utilizzo della cannabis terapeutica E questa cura ovviamente prescritta da medici non poteva effettuare all'interno del carcere Non si può somministrare cannabis o medicinare a base di cannabis all'interno del carcere mentre entrano gli oppiacei che producono danni devastanti alla salute Medicinali a base di oppiacei glielo avrebbero dati ma lui ha una forma di allergia di intolleranza verso questi medicinali La cannabis no E tutto inizia in un modo anche un po' particolare? A ottobre del 2010 l'ASL di Chieti scrive a Pellegrini Va bene importiamo il farmaco a base di cannabis dall'Olanda Ma te lo paghi da solo Ma dice ma io sono indigente Te lo paghi da solo A quel punto lui è costretto a coltivarlo Perché deve curarsi Poteva scegliere di acquistarlo dagli spacciatori Non vuole dare soldi alla criminalità Lo coltiva per conto suo E per questo è stato condannato Gli spacciatori fuori dal carcere L'assuntore malato Che si cura con la cannabis in galera Perché ad oggi Questo calvario sulla nomina Del garante dei detenuti Perché ancora non c'è il garante dei detenuti Per una volontà politica Ricordiamo che il Movimento 5 Stelle Fece un ostruzionismo su questo Sostenendo che il fatto Di aver riportato condanne Per la coltivazione di cannabis Che lei poi ha distribuito sempre i malati Rappresenterebbe Nonostante la sentenza del Tar Sarebbe ostativa Secondo loro Alla nomina di Rita Bernardini A garante dei detenuti Lo è di fatto Non retribuita Abbiamo il garante dei detenuti Gratuito in questo momento Sono 50 i furbetti Del terremoto individuati Da forestale Guardia di finanza Dell'Aquila Avrebbero dichiarato In modo falso Di risiedere In immobili Inagibili A causa del sisma Per percepire Indennizi Soldi pubblici Avuti dunque Indebitamente E destinati O alla ristrutturazione Dell'alloggio O all'acquisto Di un altro equivalente Nei confronti Di queste 50 persone Sono in arrivo Oltrettanti avvisi Di garanzia Le indagini sono coordinate Dai PM Aquilani Simonetta Ciccarelli E Fabio Picuti Soddisfazione Espressa Dalla CGL Sul caso Bussi Dopo l'acquisizione Del polo chimico Ex Solvè Da parte del Gruppo Bresciano Dell'Ato Disco Al momento Sono salvi I posti di lavoro Invece Per il piano industriale Ci sarà da aspettare L'autunno L'azienda Comunque Ha annunciato 10 milioni di euro Di investimenti Per il polo chimico Di Bussi Arriva la notizia L'Ato Disco Fa l'acquisizione Salvi i posti di lavoro Per i dipendenti Piano industriale Previsto Per Autunno Questo è l'annuncio Che fa Ovviamente Il responsabile Sindacati Come la prendono? Da questo punto di vista L'abbiamo presa bene Perché entriamo Nel concreto Entriamo nel concreto Di una situazione Che va Ovviamente Deve portare Ad accordi Dove Le cose dette Vedano Vedano la luce Si parla Di raddoppio Della produzione Si parla Di 25-30 posti Di lavoro in più Abbiamo chiesto E ottenuto Anche Dalla Caffaro Gruppo La disponibilità Alla discussione Del piano industriale Noi Chiederemo Il rilancio Delle attività Nel rispetto Dell'ambiente Perché lì La questione È anche quella Di una Attività Che si colloca In un territorio Molto fragile E tutto quello Che è accaduto Nel passato Non deve accadere E quindi Noi saremo lì Per chiedere Sviluppo Sostenibile Occupazione Rispetto Dell'ambiente Per quanto riguarda La parte interna Cioè l'area Dello stabilimento Con l'acquisizione Il gruppo La realtà Lì si chiama ancora E si continua a chiamare Chimica Bussi S.P.A. Perde solo il nome Solvay Per quanto riguarda Le aree a monte 2A e 2B Quelle rimangono In capo a Solvay La proprietà Continua a essere Solvay E quindi Tutte queste Compresa l'altra Monti Sono oggetto Di un'iniziativa Di bonifiche Che deve essere Concretizzata E che ha necessità Soprattutto di molte più risorse Dell'impegno Sia dei privati Che delle istituzioni Evitare contenziosi E agevolare i cittadini Nel pagamento Dei tributi Con queste finalità Il Comune di Pescara Introduce Due novità Nel settore fiscale Novità sui tributi Per il Comune di Pescara Dopo l'ultimo Consiglio comunale Due le novità In campo Da un lato L'Atari E dall'altra L'introduzione Dell'interpello Strumento Messo a disposizione Dei cittadini Per entrare in contatto Diretto con la pubblica Amministrazione Nello specifico Con l'ufficio Dei tributi Ad oggi Anche per un regolamento Sulla Tari Per appunto Che era scritto Che dava anche Dei dubbi interpretativi C'era la possibilità Per il cittadino Che chiedeva La detrazione Di averla Dal momento Della detrazione A fine anno Ciò aveva Delle implicazioni Negative Un cittadino Che chiedeva A giugno Detrazione Avrebbe avuto Solo da giugno Fino a fine anno Non nella parte Anticidente A prescindere Dal momento In cui lo richiede Si applica Tutta l'annualità Purché tu Lo fai la richiesta Entro l'ultima rata Che è il termine massimo Però ha anche Un effetto retrattivo Durante l'anno Poi un'altra Importante novità È quella Di un regolamento Che riguarda Un'accezione ampia A tutti i tributi Comunali Il diritto di interpello Con quello Con cui il cittadino Chiede Fa una domanda Molto semplicemente Alla pubblica amministrazione In questo caso L'ufficio tributi Con il quale Va a richiedere Per l'appunto Dei chiarimenti Sull'applicazione Nel concreto Di una normativa Tributaria Quindi significa Fa una domanda Come applicare Quella norma tributaria In quella fattispecie Poi dall'altra parte Abbiamo a fianco a ciò Abbiamo l'altro istituto Molto importante Che è quello Della mediazione Con la mediazione Prima di arrivare A un ricorso tributario Presso le commissioni tributare C'è questa possibilità Di mediare Quindi Di chiedere Una forma di mediazione Per l'appunto All'ufficio tributi E cercare Sempre nel rispetto Della legge Di trovare Anche una soluzione A quella casistica Sempre nel rispetto Della legge Siamo convinti Che con queste Anche iniziative Di trasparenza Andremo anche a migliorare I rapporti fra cittadini In ufficio tributi Del comune L'API di Teramo Interviene Sulla vicenda Della vendita Di due lotti Di mobili Presenti all'interno Dell'area Dell'ex Villa Roie Boc Una vendita Addetta Della sua azione Illegittima Dubbi di titolarità E di legittimità Per quanto riguarda Questa vendita Oggi la denuncia Arriva dall'API Si segnaliamo Traverso una nota All'amministrazione comunale Al sindaco Brucchi Al governatore La regione E al commissario Dell'Arap Affinché Rientro nel merito Dell'asta Che è stata pubblicata Qualche giorno fa Sul sito dell'Arap Per la vendita I terreni Della Velle Roie Dove ci troviamo adesso Terreni allora donati Mi riferisco a Atti Il 54-55 Dall'ora Amministrazione comunale Donati al Signor Potidorandi Qui c'era la spica Per una finità Modale Ben precisa Quella della realizzazione Di una fabbrica Per fini sociali E su alcuni terreni Vincoli perenni Di utilizzo Per quel fine Quindi oggi Noi siamo convinti O quantomeno Stiamo chiedendo Di accertare Se il passaggio Sia possibile Che qualcuno Possa vendere terreni Di natura pubblica Con vincolo modale O quantomeno Se ciò fosse possibile Riteniamo Che quei soldi Debbano essere investiti Sul territorio Questo è un fatto fondamentale Qualora il passaggio È possibile È opportuno Che questa società Allora ha donato Questi terreni Ne torna almeno Alla territoria In termini economici Fateci capire Se questo passaggio È corretto Perché negli atti pubblicati Non risultano Gli atti iniziali Del passaggio Dei terreni E ora andiamo All'Aquila Terminata la parte Di cantiere Per i sottoservizi Che maggiormente Aveva creato Disagio ai commercianti Che avevano riaperto Le attività Nel dopo Sisma Si procederà Speditamente Assicurano le aziende Che stanno Eseguendo L'opera È terminata La prima parte Dei lavori Per i sottoservizi Nell'asse centrale Dell'Aquila Un momento Celebrato Ieri sera Con un aperitivo In centro Nell'ultimo tratto Di Corso Federico II Parliamo di un tratto Di 50 metri Che ha creato Come da noi stessi Documentato Molti disagi E coraggiosi Commercianti Che avevano avuto L'idea Di riaprire Le loro attività In centro Nel dopo terremoto In questi giorni Che vedono Tutti questi impalcatura Queste cose Non vengono assolutamente Io non ho visto entrare Stamattina Non è entrato Nessuno Al negozio Purtroppo Questi Sono lavori Che bisognava fare A parte bisognava farli Subito dopo il terremoto Quando non c'era nessuno Dentro alle attività E ai palazzi Seconda cosa Sono lavori Che non bisogna fare Nel periodo estivo Che noi In cui noi abbiamo La possibilità Di incassare Qualche cosa Commercianti Che forse ora Potranno tirare Un sospiro Di sollievo E puntare Affari maggiori Ad occuparsi Dei lavori È stata la Scarla Se centrale Composta Dall'azienda Di Ravenna Kmar E dalle aquilane Del fra Il rettadei Aziende Che hanno sostenuto Anche la spesa Exa Di 2,5 milioni Di euro Somme Per maggiori Spesi Hanno detto Venute fuori Durante l'esecuzione Dell'opera Soddisfatte Per i tempi Le aziende E anche Il presidente Della Gran Sasso Acqua Americo Di Benedetto Che ha parlato Anche del dialogo Che c'è stato Con i commercianti Valutando insieme Le soluzioni migliori Polemiche a parte E così Si continuerà a fare Addetto Anche per il resto Del cantiere Per il direttore Tecnico Di S centrale Antonio Tramontano È stata trovata Una squadra operativa E siamo riusciti A detto Ad accontentare tutti Ascoltando le esigenze Di tutti Anche perché Per quel che riguarda I commercianti Un giorno in più Di chiusura Può far male Specie in questo periodo Per quel che riguarda Corso Federico II Ha spiegato Non abbiamo incontrato Alcun tipo di impedimento E quindi l'opera È andata sostanzialmente liscia Inaugurata questa mattina La nuova sede Della segreteria Studenti Dell'Università di Teramo Nell'ambito Dell'inaugurazione Sono stati anche Presentati Due nuovi servizi E le agevolazioni Per studenti Meno abbienti Rettore Oggi l'inaugurazione Di questa nuova sede Della segreteria Degli studenti Dell'Università di Teramo Servizi In tutto questo spazio Quindi non verranno Più mandati I studenti Da una parte All'altra Dello stabile E garantire Prima di tutto I diritti Allo studio È quello che preme di più Certo Anzi io direi Non verranno più Mandati dal campus Dalla città L'ADSU Ha accettato E li ringrazio per questo Di trasferire I propri uffici Qui nel campus E qui Nella Front desk Che troviamo Alle mie spalle Ci saranno Tutti Tutti Gli uffici Con cui uno studente Per rimatricolarsi O per rinnovare L'iscrizione Dovrà entrare in contatto Vogliamo Simbolicamente Offrire la nuova segreteria Per rafforzare Il diritto Allo studio Che intendiamo Sostenere Per questo abbiamo Rivoluzionato le fasce Di reddito Gli studenti Appartenenti a fasce Economiche Svantaggiate Non pagheranno Un solo euro Di tasse E anzi Con la reinternalizzazione E dei servizi Prima affidati A società esterne Potenziamo Potenzieremo Anche quest'anno Le borse lavoro Raddoppiandole Per chi intende Per correre Impegnarsi In un semestre Di studio all'estero Questo significa Secondo noi Rendere effettivo Il diritto allo studio Premiare i meritevoli Indipendentemente Dalle condizioni Economiche Consentire A tutti Di avere Una preparazione Completa Anche di un semestre In un'università Straniera Ad un giorno Dalla apertura Delle immatricolazioni Già si registra Una posizione Di maggioranza A questo punto Di studenti Da fuori regione Sì Mi fa piacere Direi che Alla fine Della giornata Del primo agosto Abbiamo avuto Già 15 immatricolazioni Di cui 6 provenienti Dall'Emilia Romagna 4 dal Lazio 1 dalla Sardegna E solo 4 dall'Abruzzo Non credo Che si possano Estrapolare Questi dati Per avere Poi una ripartizione Finale Di provenienza Però ci fa Molto piacere Aver avuto Questo afflusso Da fuori regione E creare Un ambiente Più allargato Direi Dal 19 al 21 di agosto A Guardia Grele Si svolgerà Artigitale Evento dedicato All'artigianato E alle arti Delle nuove Tecnologie digitali Dal 19 al 21 agosto Guardia Grele Presenta Artigitale In realtà È una crisi Tra digitale E artigianato Proprio qui c'è L'attenzione Cosa ci sarà In programma? Sì Artigitale La prima edizione In programma Ci sarà Tutta una serie Di esposizioni Di opere artistiche Artigianali Realizzate nel locale E ospiti nazionali E eventi Come laboratori Workshop Su Tutta una serie Di Professionalità Locali Che metteranno A disposizione Del festival Le proprie competenze Diciamo una novità Perché appunto Riesce a mixare La tradizione E l'innovazione Con progetti Studiati Specificamente Per Portare L'attenzione Di un pubblico Diciamo Ancora poco Avvezzo A queste nuove Tecnologie E questo mix Che Con progetti Veramente Realizzati Per l'occasione E questo Sarà Veramente La novità Di questo festival Che È riuscito In questa impresa E speriamo Che possa Essere Veramente Un momento Di conoscenza Per questi Artigiani Che sono Veramente Delle eccellenze Locali Il 9 10 11 Agosto Appuntamento Ad Arsita Nel Terramano Con la rassegna Valfino Alcanto Valfino Alcanto Si tiene ad Arsita Il 9 10 11 Agosto È una manifestazione Sul recupero Dei canti E dei balli Della tradizione Orale Ha avuto inizio Con un progetto Di ricerca E adesso Continuiamo La manifestazione Nel recupero Di tutti i gruppi Che a livello locale Continuano a portare avanti La nostra tradizione E in situazione Nasce il confronto Con gruppi Della tradizione Orale Provenienti Da tante altre Regioni D'Italia E in questo confronto Si tiene anche Con gruppi Provenienti Dall'estero Quest'anno Infatti Nell'ambito Della manifestazione Avremo anche Dei gruppi Messicani E dei gruppi Brasiliani Oltre a gruppi Provenienti Da varie Regioni D'Italia Il pubblico Diventa protagonista All'interno Della festa Perché è una manifestazione Senza palco Senza amplificazione Per cui tutti coloro Che partecipano Entrano Con il canto Con il ballo E con i suoni Ognuno Occupa il proprio spazio E interagisce Con i vari Gruppi musicali La peculiarità Di questa manifestazione E la combinazione Magica Di serio E faceto E il primo giorno Avrà inizio proprio Con la processione Di Santa Fiori Che è una santa Che è nata In mezzo a noi Proprio A protezione Di tutti i suonatori E tutti i cantori Che contribuiscono Alla realizzazione Di questo grande evento A Campo di Giove In provincia Dell'Aquila Dal 6 al 21 agosto Appuntamento Con la manifestazione Campo di Note Nove appuntamenti Sotto alle stelle Accompagnati da una commissione Di note Che spaziano dal jazz Alla musica classica Quella prettamente strumentale Con illustri rappresentanti Di ogni genere In una cornice Che affascina E rende uniche Le atmosfere proposte Ci sarà musica classica Musica jazz Musica etnica Il primo concetto Sarà quello Dell'insieme strumentale Di Roma Che è il gruppo In residenza Del festival Da me diretto In un programma Che terminerà Con il sesto concerto Brandeburghese Di Bach Ci saranno Tre mostri sacri Del jazz italiano Che sono Danilo Rea Che si esibirà Il 10 Gabriele Mirabassi Con Roberto Taufic Il 20 E Roberto Gatto Il 21 Insieme a poi A molti altri concerti Di musica da camera Dal 6 al 21 agosto Sarà possibile Seguire le diverse proposte Perché no Godersi anche Lo scenario Che ospita il festival Intitolato per l'occasione Campi di note È infatti Campo di Giove In provincia di L'Aquila Ad aver intuito Quattro anni fa La potenzialità Di un appuntamento Così affascinante Per turisti E appassionati Di buona musica L'amministrazione comunale Ha inteso E intende Promuovere Diciamo così La vocazione turistica Del proprio territorio Non solo Facendo leva Sulle bellezze naturali Che indubbiamente possiede Ma anche Organizzando eventi Culturali di rilievo E la manifestazione Campo di note È uno di questi Di rilievo Per ragione Degli artisti Che si esibiranno Di levatura internazionale Sono veri Fori classe della musica Si può dire E che sono capaci Di attrarre Una platea Ben più ampia Di quella Ristretta ai soli Ammiratori I soli appassionati E ora apriamo la pagina Dello sport Dopo i nomi altisonanti Dei giorni scorsi Le attenzioni Del Pescara Si spostano Sull'argentino Ex Catania Gonzalo Bergessio C'è però da aggirare L'ostacolo Dell'alto ingaggio Del giocatore argentino Su Valerio Verre Ci sono Sampdoria Inter e Lazio Ma il presidente Sebastiani Conferma Servono 6 milioni Manca poco Per completare L'organico Ma quel poco Non dobbiamo sbagliarlo Lo ha detto Oddo Domenica scorsa In conferenza Lo ha ribadito Ieri Attraverso gli schermi Di Sky Sport E un momento Di stasi apparente Per il mercato Del Pescara Che cerca Almeno un giocatore Per reparto Per presentarsi al meglio Ai primi appuntamenti ufficiali I fronti caldi Nelle ultime ore Sono il centrocampista Valerio Verre Come potenziale uscita E l'attaccante Gonzalo Bergessio Come possibile entrata Su Verre Si sono fiondati Tre club Era già vivo L'interesse di Sampdoria Inter Ma nelle ultime 36 ore Si è fatta sotto Anche la Lazio Che pensa proprio A un giocatore Cresciuto Sulla sponda apposta Quella romanista Per rinforzare Il reparto mediano Specie dopo le partenze Di Candreva E Onazzi Il Pescara però ha rimandato Al mittente La proposta di 4 milioni Più i giocatori Germoni e Perea Ma la società Di Lotito Potrebbe tornare alla carica Soprattutto mettendo Sul piatto I soldi 6 milioni E questa è la cifra Richiesta dal presidente Sebastiani Finora è ferma Ad una proposta Di 5 milioni La Sampdoria Che però Incassando i soldi Per la cessione Al Villareal Di Soriano Potrebbe salire Si è riacceso Anche il fronte Inter Che vorrebbe prendere Subito la mezzala Senza ripetere L'operazione Caprari Cioè lasciando il giocatore Sul fronte Entrate Il Pescara ha individuato In Gonzalo Berghessio Un profilo che fa Al caso suo Il 32enne attaccante argentino In Italia Si è fatto apprezzare Per tre positive stagioni A Catania Quindi un anno Non entusiasmante Alla Sampdoria Il giocatore ora È di proprietà Dei messicani Dell'Atlas di Guadalajara Più che la formula Prestito Quel che più rende difficile L'operazione È l'ingaggio elevatissimo Intorno al milione e mezzo Di euro Se le pretese Dell'attaccante Dovessero scendere sensibilmente L'operazione potrebbe farsi Tutt'altro che tramontata L'ipotesi Marcello Trotta Che potrebbe prendere La strada verso l'Adriatico Dopo il preliminare Di ritorno del Sassuolo Contro il Lucerna Intanto la squadra Ha chiuso il ritiro di Palena E nel corso della notte Tornerà subito in città Dopo il Memorial Morosini Contro il Vicenza La squadra lavorerà Nei prossimi giorni Al Poggio degli Olivi In vista del test Di sabato sera Al Patini di Castelli Sangro Contro il Seltavigo Squadra di Liga Spagnola Che giorni fa Ha battuto di misura Inamichevole La Fiorentina Al Franchi E si è svolto stamani All'Adriatico Cornacchia Di Pescara Un incontro operativo Per parlare Del progetto Del nuovo stadio Presenti Il comune Nelle persone Del sindaco Marco Alessandrini L'assessore allo sport Giuliano Diodati Il nuovo soprintendente Francesco De Gennaro E i rappresentanti Di Mibact E Lega Bifutura E' stato un incontro Molto proficuo Quasi un tavolo Operativo Che ci auguriamo Accompagnerà La fase di gestazione Del progetto Per il nuovo stadio Dichiarato il sindaco Alessandrini Da parte di questa amministrazione C'è la piena volontà A collaborare Affinché la struttura Possa rinascere In una nuova veste E possa farlo Nella massima condivisione possibile Ci riconfronteremo A settembre Con alcune ipotesi Su cui lavorare Ha concluso il primo cittadino L'auspicio E che tempi E volontà Procedano speditamente Verso il risultato migliore E ora ci occupiamo Di Lega Pro Domani il Consiglio federale Deciderà l'organico Delle ripescate Subito dopo Il direttivo Diramerà La composizione Dei gironi Per il Teramo Molto probabile L'inserimento Nel girone B Con le squadre Del nord-est Cresce l'attesa In Lega Pro Per la composizione Dei gironi Alla finestra C'è il Teramo L'unica abruzzese Rimasta Nella terza serie nazionale Dopo la retrocessione Dell'Aquila E la mancata iscrizione Della Virtus Lanciano Domani sarà A tal proposito Una giornata Da circoletto rosso Prima il Consiglio federale Darà i verdetti Definitivi Sui ripescaggi E una volta conosciuto L'organico Delle 60 squadre Si provvederà Alla composizione Dei gironi Della lista Di pretendenti Dovrebbero restare Escluse Dal ripescaggio Propatria Lecco Rieti E quasi certamente Cavese Dentro tutte le altre Le previsioni Dicono che il Teramo Farà parte Del girone B Anche quest'anno Ma la composizione Del raggruppamento Sarà diversa Visto che Girone A E B Prenderanno Il centro nord Che sarà diviso A metà La parte ovest Nel girone A Quella est Nel girone B Questo comporterebbe L'addio Alle tante trasferte Toscane Fatte in questi anni Dei biancorossi Ma anche L'inserimento Nel girone Di nobili Decadute Che punteranno Al salto Di categoria Come il Parma Di Apolloni Il Venezia Di Pippo Inzaghi La reggiana Di Leonardo Colucci Per non parlare Di Padova Bassano E Pordenone Tutte iperattrezzate E poi le quattro Marchigiane Con i sempre sentiti Confronti Con Ancone San Benedettese In attesa Che domani pomeriggio Il direttivo Di Lega Pro Ufficializzi I raggruppamenti Per il Teramo Questo è un mercoledì Di ripresa Degli allenamenti Dopo l'eliminazione Dalla Team Cup Ad opera dell'Alessandria E i due giorni di riposo Concessi dal tecnico Lamberto Zauli Biancorossi Al lavoro quasi al completo Con la sola assenza In gruppo Del centrocampista Ilari Le cui condizioni migliorano E presto potrebbe Tornare in gruppo Intanto sono in arrivo Ulteriori test Domani alle 18 Al Bonolis Con ingresso libero Contro l'Alba Adriatica Con pagine di eccellenza Poi domenica pomeriggio Contro il Pineto Squadra neopromossa In serie D La dirigenza del Diavolo E il tecnico Zauli Cercheranno di capire Se il teramo è ok così O se c'è bisogno Di qualche altro innesto In attesa che venga Scritta la parola definitiva Sul prolungamento Del contratto Del centrocampista Stefano Amadio Un rinnovo Annunciato dieci giorni fa Dal presidente Campitelli Ma che va ancora formalizzato Finisce qui La seconda edizione Del TG6 La prossima Alle ore 23 Grazie per l'attenzione E buona serata Grazie per l'attenzione